Finalmente qui da solo. Sono diversi giorni che ci vengo ma l'uno nell'altro c'è sempre qualcuno. Dite voi perché? No perché nulla. Voglio girare un video a quello che è un aspetto storico della città di Livorno. Lo scoglio della Tamerisci. Cioè pieno di Tamerisci. Chiaramente nel tempo la cosa si è affievolita. La gente non ha più il classico, le bellezze.